Anche quest'anno, come è avvenuto già nel 2020, il venerdì santo è stato condizionato dall'emergenza dovuta al Covid-19. Niente fedeli nelle processioni neanche in Abruzzo, ma su Reteotto, anche quest'anno, avete potuto seguire il rito a Di Chieti, prima la santa messa dalla cattedrale di San Giustino e poi l'arcivescovo della diocesi di Chieti Vasto, Bruno Forte, ha portato in processione la croce con il Cristo, lo stiamo vedendo in queste immagini, seguito da tre rappresentanti dell'arci confraternita del Sacro Monte dei Morti, tante persone che erano affacciate alla finestra lungo Corso Marrucino, ma come sapete per le regole anti-Covid la processione si è svolta come lo scorso anno con l'arcivescovo e pochissime persone che hanno potuto percorrere il corso principale del capoluogo teatino. Stiamo riproponendo le immagini della diretta che avete seguito fino a poco fa su Reteotto sotto la supervisione tecnica di Andrea Di Fabio. Dicevo, da San Giustino fino alla piazza della Santissima Trinità, dove c'è un'altra chiesa simbolo di Chieti e dove è avvenuta la benedizione della città da parte dell'arcivescovo presente il sindaco Diego Ferrara a rappresentare tutta la cittadinanza e tutti i cittadini di Chieti. Dicevo, una cerimonia senza il pubblico dei fedeli e quindi centro storico blindato per le norme anti-Covid.